Ben 69,99€ il prezzo di questo prodotto ed è una lampada moderna per il soffitto Io vado ad aprire un attimo la scatola di tutto questo per estrarre il prodotto e vediamo un po' come si presenta all'interno perché grandi aspettative per un prodotto che insomma non sembra essere almeno giudicando dal prezzo non sembra essere un qualcosa di particolarmente commerciale e quindi andiamo a scoprire che cosa c'è in confezione tiro fuori tutto e così lo vediamo Beh, primo impatto bello, bello e anche queste parti in oro perché sembrano dorate mentre questo è in oro rosa c'è un'incongruenza di colore perché questo è color oro mentre questo color oro rosa sbarra rame, più oro rosa che rame che comunque l'oro rosa contiene rame quindi sempre lì siamo più o meno dovrebbe avere 12 porta lampada questa palla sono curiosissimo di vederla all'opera intanto guardo i connettori aspetto un po' più tecnico di come deve essere collegato qui c'è il cassettino mentre qui abbiamo tutt'altro ecco il cavo con i due fili che sono già spellacchiati e neanche troppo bene che evidentemente hanno strofinato dentro la confezione ve li avvicino ecco qua fase e neutro che sono stati impostati qui abbiamo invece il mammut per il collegamento dei cavi a quelli che arrivano dal soffitto un cavetto che serve per collegare la terra e poi tasselli, viti e cose di questo tipo vado a provarlo, a montare tutto quello che serve e vi racconto come mi sono trovato nella recensione testuale di questo prodotto